buongiorno a tutti abbiamo deciso di realizzare questo questo video per fare il punto su quello che accade intorno agli elenchi speciali di come la questione di elenchi speciali sta producendo un danno dentro quella che era la la condizione del doppio educatore per come la abbiamo imparato a conoscerla nel nel tempo e quindi sentiamo il bisogno di fare il punto anche rispetto al al alle la situazione contingente e anche rispetto alle scelte politiche professionali che in questo momento come organizzazione politica professionale dobbiamo siamo chiamati siamo chiamati a svolgere per cui provo oggi a fare un focus sul processo normativo prima tutto come eravamo abituati a rappresentare il mondo prima il mondo delle professioni educative prima dell'entrata in vigore della cosiddetta legge Iori come avevamo come come si era andato a risistemare il mondo delle professioni educative dall'entrata in vigore della legge Iori in poi come quali sono le più recenti interpretazioni legate al al doppio al doppio educatore e come queste interpretazioni costituiscono un un pericolo per la professione pedagogica così come abbiamo imparato a conoscerla il perché siamo preoccupati il la preoccupazione che in questo momento stiamo comunicando attraverso tutti i canali con i quali siamo in grado di di esprimere di esprimere una valutazione su quello che sta accadendo e quindi un un appello finale come eravamo abituati ad immaginare a leggere a a guardare al mondo quando quando prima dell'entrata in vigore della della legge Iori cioè prima del primo gennaio del 2018 vediamo parlavamo del doppio educatore ma questo educatore vuol dire dall'altro c'era l'educatore sociale detto virgolette perché non c'è una definizione professionale quindi lo chiameremo qui educatore sociale dall'altro c'era l'educatore professionale di tipo che era professione sanitaria c'erano due formazioni la formazione di scienze ed educazione alle 18 prima di 19 e dopo e la laurea snt2 delle la classe dei laurei nella nella riabilitazione della sanità di riabilitazione ma a fronte del fatto che esistesse nella normativa nella le 13 3 2 8 del 2000 all'articolo 12 da un lato per le professioni sociali e nella nella 502 92 per le professioni sanitarie la possibilità di definire il le attività e la formazione delle professioni sociali nella 32 8 sono sanitarie nelle 502 e sanitarie nella 502 soltanto una di queste due professioni aveva una riserva professionale perché la riserva professionale legata al 520 del 98 alla riserva persone non corrispondeva a quella riserva professionale un'analoga riserva professionale in ambito in ambito sociale e questo produceva tutta una serie di problemi connessi principalmente con una grave asimmetria e che diciamo aveva due enormi problemi alla base la prima è che il 520 del 98 attuava una delega che prevedeva la possibilità di definire le professioni sanitarie la stessa lo stesso 502 aveva anche una definizione delle professioni sociali sanitarie ma quello andava fatto attraverso un decreto interministeriale col ministero delle politiche sociali che non era stato fatto quella professione che è stata definita quella del 520 era una professione chiaramente sanitaria e la seconda questione è un il fatto che la definizione dopo lo vediamo ma la definizione dell'educatore professionale per come è stata definita il 520 è una definizione oggettivamente ambigua cioè si definisce una professione sanitaria che poi sanitaria per chi conosce il mondo del la definizione di servizi sanitario un servizio che si definisca educativo non può essere sanitario e stesso stesso per sua stessa natura solo sanitario questa è la laporia di fondo dell'educatore dell'educatore 520 bene si definisce una professione sanitaria come un servizio che 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 ha una forte connotazione educativa e sociale dopo vedremo e che persino in cui ambiti di attività sono sono pensati come più ampi per quanto non poteva evidentemente produrre effetti se non all'interno del sanitario questo è il è il è il quadro per come ce lo siamo abbiamo imparato a conoscerlo prima dell'entrata in vigore del del dell'apri del 205 2017 il primo gennaio 2018 poi caso succede succede che l'entrata in vigore del 2000 della prima legge della 205 istituisce due professioni da un lato educatore professionale socio pedagogico dall'altro educatore professionale socio sanitario commi 594 a 595 il socio pedagogico ha una si accede con la laurea di scienza ed educazione alle 19 al socio sanitario si accede secondo la laurea nss nt 2 ed entrambe hanno riferimenti normativi qui faccio riferimento anche alle 3 2018 anche se tra 3 2018 entra in vigore dopo è entrata in vigore della 205 e quindi per cui la slide era pensata al primo gennaio del 2018 e quindi anche gli ambiti, sui socialità non ho detto appunto perché quando ho pensato la slide a fare riferimento c'è da fare dei ragionamenti un po' più di fino connessi da un lato con la 3, con la legge Lorenzin, dall'altro con il fatto che la 205, il comma 594, la 205 è stato a sua volta riformato dalla legge 145, quindi la finanziaria del 2019, il comma 517 della 145 che ha introdotto delle ulteriori modifiche. Insomma, il quadro era più o meno, se volessimo ragionarlo, polarizzato, e non lo era, è così. Da un lato una professione che qui definisco educativa perché l'ambito educativo è sottoposto a un altro tipo di riserva, quella definita dal 65, dal sistema 06 della buona scuola, al quale si accede fra l'altro con l'area in scienza ed educazione con indirizzo. Poi, da un altro lato il socioassistenziale, dall'altro lato, dagli apposti, dagli antipodi del socioassistenziale, il sanitario, con ambiti di attività, perché per esempio il socioassistenziale, per come viene definito dal 328, anche rispetto agli ambiti di attività, è un ambito che include, per esempio, molti servizi per i minori, molte attività connesse con la prevenzione delle droghe, alcuni servizi di tipo sociale per persone con disabilità psichica. Insomma, non è un ambito ristretto a quello che siamo abituati a ragionare come ambito sociale. Dall'altra parte, con l'aboria che dicevo prima, la di una professione sanitaria che non poteva che essere, però, diciamo, socioassistenziale, ma che non venne attuata secondo le modalità della professione socioassistenziale, l'educatore professionale 520. Fra il primo gennaio 2018 e il giorno di oggi ci sono dentro, ci sono in mezzo la legge 3, quindi anche all'istituzione di un ordine multi-albo che ha dentro anche l'albo degli educatori professionali sanitari, che è la vera novità di questo processo, e la 145 2018 che integra la 205 definendo, fra gli ambiti di attività, gli educatori professionali socio-pedagogici, l'ambito del sanitario e del sanitario limitatamente agli aspetti educativi. Evidentemente, limitatamente gli aspetti educativi è uno degli elementi che sono sul tavolo, ma in effetti, come posso farvi vedere chiaramente dopo, non ci sono aspetti diversi da quelli educativi nella nostra attività, evidentemente. direi, devo dire che con una certa difficoltà si definisce anche nella professionale sanitaria, per motivi che vado a vedere. Quindi, cosa succede? Succede che questo quadro aveva una sua potenziale definitività, c'erano due professioni diverse, con ambiti che erano parzialmente sovrapposti, ma questo non produceva nessun problema speciale, almeno non a noi, nel senso che non abbiamo mai immaginato di dire che gli educatori sanitari non dovessero poter lavorare. Rivendicavamo semplicemente la possibilità che gli educatori socio-pedagogici potessero operare, così come dice la 205, negli ambiti in cui dice la 205. Per cui l'ambito socio-assistenziale, l'ambito socio-educativo, socio-assistenziale, socio-sanitario e della salute. È accaduto però che negli ultimi giorni l'introduzione di una circolare sugli elenchi speciali, che evidentemente è un elemento che cambia il quadro nel quale stiamo andando ad operare, che è stata emessa dall'ordine del TSRM, produce un'enorme preoccupazione, per cui chi di noi svolge una funzione di riferimento per la categoria si trova a ricevere almeno 10-15 telefonate al giorno, Whatsapp, messaggi su Messenger, eccetera, di colleghi che sono estremamente preoccupati rispetto al quadro che si sta andando a definire. È anche un quadro che ha portato già adesso diverse migliaia di educatori socio-pedagogici a discriversi dagli elenchi speciali, di fatto facendo una scelta verso la professione di educatore professionale socio-sanitario, evidentemente perché si sentono minacciati in pericolo rispetto alla propria possibilità di operare dentro i servizi. Cosa dice il TSRM? Dice prima di tutto, se eserciti una professione, quella professione è definita non per dove eserciti la professione, ma per il fatto che la stai esercitando, quindi se eserciti una professione di medico e però fai un servizio di prevenzione dentro la scuola non è che stai esercitando un'altra professione, sei medico, sei e quindi indipendentemente da le tue operi, sociale, socio-sanitario, sanitario nel nostro caso, le professioni sono quelle lì che sono, insomma. La seconda argomentazione è l'educatore professionale sanitario, professionale sanitaria, anche quindi se opera in una comunità per minori, lo dico io, non lo dice esattamente così dentro la circolare, ma insomma questo è il senso, sempre di educatore professionale di educatore professionale si tratta. Ora, ovviamente la definizione dell'educatore professionale sanitaria va riferita a quella che è la definizione prevista dal 520 del 1998, che come vedremo è la definizione è recitamente ampia di una professione che ha una forte connotazione sociale, perché il 520 stava definendo una professione sanitaria ad alta connotazione sociale. Quello che succede è che l'ordine pretende che quella definizione professionale, che era chiaramente limitata all'ambito sanitario, debba essere estendibile a qualunque ambito di attività. E quindi, dice l'ordine TSRM, gli educatori socio-pedagogici possono iscriversi agli elenchi speciali, anche se hanno operato, sia si abbiano operato nel socio-assistenziale, sia si hanno operato nel socio-sanitario, sia si abbiano operato nel sanitario. In relazione poi all'educatore professionale a socio-sanitario, del socio-pedagogico cosa dice? Premessa, dato che non possono esistere professioni ex legge le 4, che si sovrappongono a professioni ordinistiche, questo non lo dice l'ordine, lo dice la stessa definizione di professione non organizzata in ordine e collegi prevista nella legge 4. Dal momento che non ci possono essere professioni ex legge 4 che vanno a sovrapporsi a professioni ordinistiche, come va vista questa cosa? Gli educatori socio-pedagogici, dice l'ordine, sono esentati dall'iscrizione degli elenchi speciali, in quanto dice sono una professione impossibilitata a svolgere le attività tipiche e riservate all'educatore professionale di quel 520 del 98. Il 520 del 98 però definiva una professione che è molto simile a quella che noi immaginiamo, che noi siamo abituati a considerare l'attività dell'educatore. Ci sono degli elementi che adesso vado a sottolineare, ma come vedrete adesso che guardiamo il 520, l'attività professionale di educatore, così come siamo abituati a concepirla dentro tutti i servizi sociali nei quali siamo presenti, è molto simile a quella che è la definizione che di educatore dava il 520 del 98. E' questo il principale elemento di preoccupazione che nasce dentro il mondo, dentro la categoria. Signori, l'ordine sta sostanzialmente argomentando, non posso che prendere atto che ci sia una professione che si chiama educatore professionale socio-pedagogico, però ti dico anche che, visto che lì c'è la stessa definizione, il statuto dell'educatore professionale socio-pedagogico c'è scritto che è una professione di ordinistica e quindi, visto che c'è la professione di ordinistica, di conseguenza tutto quello che fa l'educatore socio-pedagogico e l'educatore socio-sanitario coincide con tutta l'attività educativa tour. Quindi esiste la professione di educatore socio-pedagogico, ma non può operare in nessun tipo di servizio. Questo è il tipo di argomentazione paradossale, abnorme, che l'ordine TSRM prova a sottoporre e che evidentemente sta facendo spaventare le persone, perché dico se il rischio, naturalmente uno dei passaggi di quella circolare è l'esercizio abusivo della professione, se il rischio di poter perdere il mio posto di lavoro, mi scrivo negli eneghi speciali e mi infilo dentro questa specie di limbo dal quale non potrò mai più uscire con l'apartheid di cui facevo riferimento prima dei 50.000, insomma, alcune decine di migliaia di educatori socio-pedagogici che stanno nell'elenco speciale e in cui invece chi traccia la linea, chi definisce i diritti, sono invece gli educatori sanitari. Questo è l'interpretazione del TSRM, è un'interpretazione purtroppo molto autorevole, evidentemente non è l'unica interpretazione in campo. Cosa invece dice l'interpretazione del nostro mondo accademico? Dice, guardate bene che la 205 ha definito con chiarezza gli ambiti di attività dell'educatore professionale socio-pedagogico, che sono assistenziali, sono sanitario e sanitario. Dice, guardate sanitario la posizione del mondo accademico di scienze e dell'educazione, non dice della salute, perché sta riconoscendo l'ambito sanitario all'interno di quella definizione di socio-sanitario della salute che è prevista nel comma 517 della 145. Poi dice, non bisogna leggere la 205 alla luce del 520, ma bisogna fare il contrario, perché la 205 è una norma, cosa si fa quando c'è un conflitto fa norme? Si fa vedere qual è la norma di rango superiore e la norma successiva. E quindi dicono i nostri accademici, la legge 205 del 2017 è una norma successiva e di rango superiore nella gerarchia delle fonti. Cosa vuol dire che è successiva e di rango superiore? Vuol dire che, dalla legge 205 del 2017, sta riformando l'educatore professionale così come esisteva dal 520 del 1998 e sta istituendo due diverse professioni di educatore professionale. Da un lato la professione di educatore professionale socio-pedagogico, dall'altro la professione di educatore professionale socio-sanitario. Ne sta istituendo due. tant'è che è vero, dice quella di questa posizione, qui non l'ho scritto, che l'educatore professionale socio-sanitario, soltanto l'educatore professionale socio-sanitario, fa riferimento al 520, non è che lo ignora il 520, fa riferimento, lo integra dentro una delle due professioni. Ora, e comunque l'iscrizione degli elenchi speciali, dice questa posizione del mondo dell'accademia di ambito pedagogico, non possono riguardare tutti i professionisti, ma devono riguardare soltanto, per chi lo dice, questo non è che lo inventano i nostri accademici, il decreto ministeriale che istituisce gli elenchi speciali della ministra Grillo del 9 agosto, dice con chiarezza che gli operatori devono aver esercitato il loro servizio in servizi sanitari e sanitari, e anche chi fa domanda di iscrizione degli elenchi speciali, firma un'autodichiarazione nella quale c'è scritto che quel servizio l'ha fatto dentro un servizio socio-sanitario o sanitario, chi si inserisce dentro gli elenchi speciali e ci inserisce dei servizi sociali, sta certificando il falso, anche lì incorrendo in una sanzione penale. La cosa più incredibile è che l'ordine dice socio-assistenziale nella circolare, ma mantiene una modulistica a cui il partecipante con cui fa domanda di iscrizione degli elenchi speciali è obbligato, e nella modulistica però chi fa domanda di iscrizione degli elenchi speciali scrive che ha operato nell'ambito di un servizio socio-sanitario e sanitario, dopodiché ci mette il nome della cooperativa. Questo dato qui è un dato di ulteriore preoccupazione perché evidentemente ci saranno persone che se volessero fare come dice il TSRM non possono farlo senza incorrere un'ulteriore sanzione penale, che è quello della dichiarazione mendace. Ma ora la domanda è cosa diceva il 520 del 98? Perché l'elemento, dell'elemento importante della posizione che vi ho riportato prima del TSRM è il 520 del 98 e definisce una professione sanitaria e quindi la professione sociale esiste ma non può operare. E questo è il punto. Dice il 520 è istituito da un educatore sociale e sanitario, definisce così. È una professione sanitaria, non c'è dubbio, ma è definita come un educatore sociale sociale e sanitario. È in possesso del dio abilitante, il diploma universitario sono le lauree triennali antelitteram. Nel 98 nel nostro ordinamento esistevano i diplomi di laurea, per noi era laurea quadriennale, ed esistevano, poi c'erano i diplomi di laurea 5-ennale e 6-ennale, non so come si dice, nel caso per esempio di medicina, ma soltanto nel 2004 entrano nell'ordinamento dei laurei triennali. Quindi il decreto viene attribuito ad un diploma universitario perché in sanità già nel 98 esistevano quelle che erano dei percorsi formativi istituiti verso le facoltà di medicina con durata triennale. È in possesso del dio, ma soprattutto attua progetti educativi e riabilitativi. Li attua entrambi. Nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipo multidisciplinare. Qui sembrerebbe che il progetto educativo o riabilitativo, se svolto al di fuori di un progetto terapeutico ed è non elaborato da un'equipo multidisciplinare, non produca l'esclusività dell'educatore professionale 520. Questo è plausibile perché lui sta ragionando, l'estensore del decreto ministeriale sta ragionando su una professione sanitaria. Io personalmente non ho mai fatto un progetto terapeutico ed in verità non ho mai operato in un'equipo multidisciplinare nell'ambito dell'erogazione di un servizio perché normalmente l'attività educativa non sta dentro un piano terapeutico che ha dentro anche altri professionisti sanitari che erogano altri servizi sanitari. Normalmente l'attività educativa viene svolta dal personale educativo e quella roba lì non si chiama piano terapeutico ma si chiama progetto educativo individuale. Sia che sia un progetto educativo fatto con un adolescente, con un bambino o con un anziano sia che sia un progetto educativo svolto con una persona con disabilità e con una persona con problemi di dipendenza o una persona con problemi di ambito psichiatrico. Sempre di progetto educativo si parla. Mentre il 520 dice con chiarezza nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipo multidisciplinare. Il resto in verità, al di là del linguaggio per esempio dice cura il positivo inserimento e reinserimento psicosociale di soggetti in difficoltà. Parla il sanitariese evidentemente. Noi non lo diremo mai così perché intanto non è immaginabile per noi che un educatore o un pedagogista operi esclusivamente con i soggetti in difficoltà. Noi lavoriamo per la promozione della persona, punto. Poi alcune persone possono venire più bisogno può darsi ma non è la difficoltà a definire l'ambito di attività di un piano, di un'attività educativa. E anche la riferimento all'inserimento psicosociale hanno molto a che fare con l'approccio medico-sanitario. Noi certamente lo definiremo da definiremo in altro modo. Ma quando andate a definire le attività, le attività come potete vedere sono molto simili a quelle che sono le attività educative. Per come siamo abituati ad immaginarle. Il programma gestisce e verifica interventi educativi volti al recupero delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia. Trebbersi soggetti in difficoltà perché è proprio inimmaginabile che un professionista della sanità operi con persone che non siano in difficoltà. Contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie. Promuove ed organizza anche le strutture e risorse sociali. Lo fa all'interno dei servizi sociosanitari, strutture sociosanitari, riabilitative e socioeducative. In modo integrato e coordinato con altre figure professionali. Qui capite che la preoccupazione era che... Anche qui è proprio la professione sanitaria che si va ad inserire dentro il quadro di una burocrazia e di un concetto di professione sanitaria che è molto diverso dal nostro. Evidentemente per noi l'educatore è parte di una catena che ha come applicare il pedagogista. Qui parla di modo coordinato e integrato con altre figure professionali. C'è in mente l'equip multidisciplinare che si può immaginare dentro alcuni servizi sanitari. Opera sulle famiglie e sul contesto sociale, partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzati agli scopi che abbiamo elencato. Ora, quindi, quello che è il messaggio che vorremmo lasciarvi oggi è, ma noi perché siamo preoccupati? Siamo preoccupati per questo. Siamo preoccupati perché se dal lato la buona notizia è che è un'interpretazione, cioè non è né una sentenza né una legge. Certamente il TSRM è uno dei soggetti in campo ed è un soggetto molto autorevole, ma non è una parola definitiva su questa questione, tant'è vero che vi ho presentato due diverse e antitetiche letture della condizione del doppio educatore che sono sul tavolo. Ma il problema è che si tratta di un'interpretazione che potrebbe distruggerci per come ci conosciamo la professione oggi. E l'elemento di preoccupazione maggiore è che sono aperti gli elenchi speciali e che se questa interpretazione sorregge la volontà di spingere verso gli elenchi speciali i colleghi che operano in tutti i settori in cui operiamo, evidentemente si produce l'apartheid, qui facevo riferimento prima, e al contempo si produce lo spopolamento e la perdita di capacità professionale da parte della professione. E fra l'altro guardate che sono tanti quelli che, al di là della questione del social sanitario che è sinceramente illegittima, ma anche proprio quelli lì che non abbiano tre anni di attività, perché stiamo parlando di escludere dagli elenchi speciali, quelli che si sono iscritti, che si sono laureati prima di quattro anni, perché evidentemente i tre anni devono essere posseduti al primo gennaio del 2019, quindi bisogna tornare indietro di ulteriori 36 mesi al primo gennaio del 2019. Quindi chi si è laureato dal 31 dicembre 2015, in poi non può entrare negli elenchi speciali. Ed in ogni caso l'esperienza di chi vive nei servizi è che anche i periodi lavorativi sono frammentati, non sono così continuativi, ci mettono un po' prima di entrare nel regime. Stiamo parlando di un problema che riguarda i laureati almeno dal 2010-2012 in poi. E quindi il danno per centinaia di migliaia di persone nel paese è enorme. E questo è il motivo per cui anche il processo di elenchi speciali per quanto riguarda l'educatore professionale va immediatamente riportato a quello che era l'alveo di normalità, di una normale visione dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario, come due professioni che coesistono nei servizi e erano le attività che siamo abituati ad immaginare e ad operare. Questo è il motivo per cui siamo preoccupati ed è anche il motivo per cui riteniamo che in questo momento storico sia necessario richiamare ad una importante mobilitazione collettiva non soltanto il mondo degli educatori professionali e dei pedagogisti che stanno nei servizi, perché evidentemente sono i primi interessati e ovviamente non soltanto quelli che non avrebbero i requisiti delle elenchi speciali, ma tutto il mondo degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti, così come siamo abituati a riconoscere e a definire la categoria fino a questo momento e non soltanto di questi qui, ma anche di tutti gli stakeholder che ci stanno intorno, perché evidentemente il mondo delle imprese, questa interpretazione non può trovarla che è abnorme, assurda e impraticabile, perché lo è, perché è abnorme, assurda e impraticabile. Il mondo delle imprese non può che misurarsi con questa cosa, il mondo dei sindacati non può che stare al nostro fianco, adesso sto seguendo in questo periodo una problematica importante di un possibile, probabile licenziamento collettivo connesso con questi elementi di contesto che vi sto definendo. Ora, il punto qual è? È che tutti, vorrei dirlo con la solennità che questa cosa merita, tutti i soggetti che sono in campo, in ambito, dico i soggetti collettivi, le organizzazioni dei professionisti, le organizzazioni dell'università, tutti i soggetti che sono in campo su questa partita rispondono, in generale rispondono alla categoria per quello che fanno. Evidentemente ne rispondono sia per quello che fanno che per quello che non fanno. E quindi il tema è che è necessario che tutti si assumano un pezzo di responsabilità rispetto a questa situazione, sia per la loro azione che per la loro eventuale inazione. Perché il danno che potremmo avere da questa fase, che si apre da oggi e che si chiude il 30 giugno del 2020, perché sembra certo che nel mini-proroga verrà approvata la proroga al 30 giugno del 2020 per l'iscrizione degli elenchi speciali, potrebbe essere tale da cambiare in maniera radicale non soltanto la definizione professionale dell'educatore social pedagogico, così come abbiamo imparato a definirlo, ma anche la sua stessa connotazione sul piano disciplinare, sul piano delle attività, sul piano dei saperi che sono contenuti nei percorsi formativi che li definiscono. Noi riteniamo che tutto il mondo della pedagogia professionale, tutti i soggetti associati che sono implicati in questa partita debbano muoversi con decisione in difesa di una definizione professionale che con la modifica della 145 avevamo assunto e che aspetta ancora di essere pienamente attuata. Ciao a tutti e grazie.